Buonasera e ben trovati con la puntata numero 6 di Block Notice, una puntata che arriva all'indomani del bel pareggio dell'Arezzo in Terra Sarda contro l'Olbia. Ovviamente parleremo dell'attualità a Maranto, lo faremo ampiamente per quasi tre quarti della nostra trasmissione e poi come consueto parleremo anche di calcio dilettanti. Avremo anche una finestra sul calcio femminile come abbiamo fatto già la scorsa settimana, ovviamente saranno tanti gli argomenti, tanti temi, come di consueto la buonasera al mio fianco. Ad Elettra Fiorini, buonasera. Buonasera Andrea, ciao. Allora Elettra, ovviamente un Arezzo che continua comunque a dare soddisfazioni, secondo posto in classifica, un punto importante, l'abbiamo detto ad Olbia, comunque da continuità e ulteriori certezze alla formazione a Maranto. Ne parleremo con un ospite davvero gradito, allora do il ben trovato per questa stagione di Block Notice al direttore generale a Maranto, Ermanno Pieroni. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a voi. E per parlare, commentare insieme al direttore e a noi l'attualità a Maranto, il collega della Gazzetta dello Sport, Marco Piga. Buonasera Marco. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. E allora, prima di andare a vedere la scheda di Andrea Vato che ci introduce ai temi di questa puntata in salsa Maranto, ovviamente, direttore, quanto vale il punto di Olbia? Ecco, io fa piacere che tu abbia detto il bel punto perché è stato un punto sofferto contro una squadra, a mio avviso, con due attaccanti veramente forti, forse migliori, dopo quelli che ho visto della Cararese e in questo girone. non era facile, un terreno di gioco tra l'altro molto infido, non regolare, una squadra che secondo me darà filo da torcere a tutti e quindi strappare questo risultato positivo, continuare la nostra serie, non prendere la gol, è la sesta partita. E questo è un dato poi che analizzeremo con un Pelagotti che si conferma grande protagonista. Diciamo, non solo lui, ma l'intero reparto arretrato, quindi io sono contento di questo risultato, di dire la verità. Certo, la gente sogna, tutti sogniamo, non costa niente. E' chiaro che ogni settimana che va avanti la gente sogna sempre di uno perché... però credo che il segreto dell'Arezzo può essere solo quello di rimanere con i piedi per terra. E allora Marco, c'era la possibilità comunque vincendo di andare in testa alla classifica, è vero che è stata comunque un'altra giornata di mezzata per tutto il caos che sta caratterizzando la serie B, a cadere ovviamente anche la serie C, però possiamo dire che non c'era ammalico magari per non essere oggi in testa alla classifica. Secondo te è un Arezzo che torna ad Olbia con quali certezze in più dal tuo punto di vista? E' un Arezzo che conferma l'ottimo avvio di stagione, è un Arezzo che gioca sempre la partita, è una squadra che gioca a calcio, in cui bisogna dare atto sia chi l'ha costruita sia chi l'allena che fa giocare a calcio alla squadra, perché vedere giocare l'Arezzo è sempre uno spettacolo secondo me, perché comunque azioni manovrate, sovrapposizioni, i giocatori in campo si trovano a meraviglia e questo è merito sicuramente dell'allenatore. Anche ieri abbiamo fatto la partita, soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto due chance per passare, non ci siamo riusciti e siamo comunque riusciti a tornare via dalla Sardegna con un pareggio che secondo me è ottimo, perché è vero che si poteva andare in testa, tutti la guardavamo la classifica, io anche prima al direttore ho detto se si vinceva, però bisogna anche guardare sempre il bicchiare mezzo piano, questa squadra continua a non prendere gol, la sesta partita su otto che non prende gol, grossa solidità difensiva e quindi è un bel viatico per il futuro. Parleremo di questo e molto altro, la scheda di Andrea Vato e poi torniamo qua in studio. Il primo posto era di nuovo lì a portata di mano come dieci giorni prima ad Alessandria, ma l'Arezzo ha mancato di nuovo il sorpasso al vertice, con la Juve B aveva perso pur senza meritarlo, a Olbia ha pareggiato, questo però non sposta il giudizio su una squadra che continua a indirizzare le partite anche quando non le vince. In Sardegna, di fronte a un avversario su di morale, giovane, di qualità e armato di due punte forti come setere e ragazzo, l'Arezzo ha costruito, sofferto, attaccato e stretto i denti. Ha provato a proporre gioco, palleggiando finché le energie, gli avversari è un terreno non proprio perfetto e gliel'hanno consentito. Poi è stata attenzione, concentrazione e il solito cuore che in questo avvio di campionato non è mai venuto meno. È mancato il leguizzo finale, la giocata sbroglia matassa negli ultimi 20 metri, il colpo di genio di Belloni, stavolta più croce che delizia. Troppo isolati i due attaccanti, meno efficaci gli inserimenti dei centrocampisti. Ma ci sta e comunque di occasioni nitide ce ne sono state per un Arezzo a cui sarebbe inverosimile chiedere di essere uno schiacciasassi in casa e fuori. I numeri restano molto positivi, ben superiori alle aspettative. 15 punti in 8 partite disputate, 6 gare senza gol al passivo. Secondo posto in classifica sono dati che la dicono lunga e che certificano il buon lavoro fatto in estate. Innanzitutto la scelta di Dalcanto, considerato dalla società il vero fulcro del processo di ringiovanimento e cambiamento. Poi la selezione dei giocatori, giovani e meno giovani, che l'allenatore ha saputo amalgamare in fretta, trovando l'abito tattico migliore per una squadra inclina al gioco manovrato e al possesso palla. Quella che doveva essere una stagione di transizione, che resta il primo passo di un progetto triennale, illustrato a più riprese della dirigenza, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, specie se il campionato dovesse restare così incerto e frastagliato. La spinta dei tifosi e il rendimento sopra le righe dei calciatori hanno relegato in secondo piano l'amarezza per l'addio di Moscardelli, la delusione per il mancato ritorno di Floro Flores e le difficoltà nel gestire una rosa extra-large di 34 elementi, compresi Belvisi e Cenetti, che sono fuori vista. L'Arezzo, rinato dalle ceneri dell'esercizio provvisorio e con un fallimento scongiurato in extremis, è la vera sorpresa di un campionato stranito dalle beghe della giustizia sportiva sui pescaggi e sul format della Serie B. Un campionato ben rappresentato dal teatrino di Olbia, sulle porte troppo basse rispetto al regolamento e rimesse in sesto in fretta e furia prima del via, specchio di una Serie C in balia dei tribunali e con una classifica che ancora è soltanto virtuale. Tanti temi toccati nella scheda da Andrea Vato. Prima di tornare a parlare di Arezzo, direttore, Avato ha chiuso dicendo una classifica che è ancora soltanto virtuale. Speriamo che domani si possa mettere finalmente la parola fine a questo caos, anche perché è un campionato che ad oggi rimane incompleto, monco, con tante partite che non si disputano. È vero che l'Arezzo sta facendo il proprio percorso, però ci auguriamo finalmente di poter mettere la parola fine a tutto questo teatrino dell'assurdo. Ma se lo augurano tutti, gli sportivi, chi ama il calcio. Sicuramente domani il Consiglio federale ha la possibilità di mettere la parola alla fine a una telenovela che dura da troppo tempo. Degli errori in passato sono stati commessi, soprattutto nel momento in cui è stato cambiato il format della Serie B da 22 a 19, probabilmente non c'erano i tempi e il regolamento non lo consentiva. Il commissario straordinario ha preso questa decisione, ha trovato i consensi del 19 Presidente di Serie B, però tutto questo a scapito di chi? Di quelle che erano le società che avevano anche versato soldi importanti per il pescaggio, a scapito di un campionato come quello della Pro dove ci sono squadre, se la Viterbese dovesse iniziare, non so in quale girone, penso sarà in quello dell'Arezzo, deve recuperare per le notte partite. Quindi è una situazione anomala. Parezzo che ad oggi ancora attende la conferma di giocare contro la Pro Vercelli e il recupero nella sua giornata. Noi comunque, a prescindere da tutto, abbiamo giocato 8 gare, faccio notare che abbiamo giocato 5 fuori cassa, 3 in cassa, siamo a più 1 in medio inglese e quindi forse è un secondo posto solo per quello che riguarda la classifica, ma in termini di medio inglese probabilmente lo siamo. Allora la domanda direttore mi viene in mente, a questo punto non si può pensare solo alla salvezza, perché è una squadra che può guardare a qualcosa in più, anche se il progetto esposto sia da lei che dal Presidente, la cava è triennale, però è una squadra che numeri alla mano può anche guardare a qualcosa in più già quest'anno? Io credo che con un certo equilibrio la società dopo che lo scorso anno è stato raggiunto un risultato sportivo eccezionale sull'entusiasmo in un'intera città, che tutti hanno contribuito per ridare questo entusiasmo in una situazione molto difficile. Appunto su questo entusiasmo si è cercato di costruire una squadra dando spazio ai giovani, perché ne abbiamo parecchi, abbiamo nuovi 15 calciatori di proprietà, parecchi sono under, dovevamo contenere certe spese, dovevamo soprattutto fare quello che è il progetto iniziale, gettare le basi di una casa le cui fondamenta devono essere solide e sono più che solide, sia dal punto di vista societario, grazie alla proprietà, grazie a Giorgio Lacava, Massimo Anselmi, al Goglio Amaranto, che sono stati i precursori da questo punto di vista, ma grazie direi soprattutto all'allenatore, al suo staff, ma ai calciatori. Questa è una squadra, a prescindere da quello che uno può dire, è una squadra che non molla mai, è una squadra che è molto coesa, questa è squadra veramente, nel senso che si è creata questa empatia importante tra i giocatori più esperti e giovani. Non ci sono prime donne, ci sono giocatori che hanno il piacere di andare allo stadio ad allenarsi, c'è amicizia tra loro e questi poi sono i risultati che si misurano sul campo. Assolutamente, poi torneremo ovviamente sui temi che ha toccato adesso Elettra. Marlo, abbiamo parlato prima di questa difesa granitica, comunque di una difesa che effettivamente sta facendo tanto per l'Arezzo. Come la giudichi te e poi anche quanto Pelagotti può essere effettivamente un valore aggiunto all'interno di questo organico? Premesso che secondo me Pelagotti è uno dei migliori portieri dell'intera Serie C, perché comunque le prime partite parlano chiaro, quindi anche ieri fa due o tre interventi a partita ma li fa decisivi. Sullo 0-0 è un portiere che fino ad ora ha un rendimento altissimo, ma il rendimento è alto di tutta la difesa che lavora molto bene, intesa come fase difensiva, perché la fase difensiva parte dagli attaccanti. Se gli attaccanti cominciano ad aiutare il centrocampo, il centrocampo a sua volta aiuta la difesa, poi è chiaro che il compito dei quattro difensori è molto più semplice. Abbiamo un Carlo Pelagotti che è un pilastro, un altro cardine della squadra, un elemento molto esperto, ha fatto due ottime stagioni in Serie B a Cittadella, è stato un giocatore molto corteggiato dall'Arezzo, ha insistito molto su Pelagotti e secondo me ha fatto bene, perché Carlo oltretutto è un aretino, è un tifoso, non dimentichiamocelo che l'anno scorso molte volte in trasferta quando giocava all'Arezzo al nord andava nel settore ospiti a vedere la partita, quindi tu immagina un tifoso che gioca con la squadra della sua città, con la squadra per cui ti fa, cosa mette in campo in più rispetto al normale. Poi ci sono dei giovani come Pinto e come Sala che sono due ottimi calciatori, parlavamo anche prima con Ermanno, Sala è un 99 che negli ultimi due anni con l'Inter ha vinto tutto, è un giocatore sicuramente di prospettiva e si sta mettendo in luce in queste prime partite, però come dicevo prima, grosso merito secondo me è del mister, perché il mister è riuscito oltre a imprimere una bella fase difensiva proprio a dare un gioco, a dare un'identità alla squadra. Io quando sono uscito dallo stadio di Pisa alla seconda partita ho detto mamma mia, questa squadra è forte, perché una squadra che riesce ad andare a Pisa con quel pubblico, con quell'atmosfera, a imporre il gioco per tutti i 90 minuti credo che in poche squadre se lo possano permettere, quindi è giusto sognare, ora è chiaro che chi fa parte della società fa bene a gettare acqua sul fuoco, è giusto non caricare troppo la squadra, però… Marco, parlare di salvezza a questo punto secondo te rimane riduttivo? Io secondo me non parlerei di salvezza, io parlerei di una squadra che gioca spensierata, senza pressioni, senza pensieri, deve affrontare tutte le partite come bisogna vincere perché sennò si retrocede, cioè domenica qualcuno, devono andare in campo, bisogna vincere perché sennò si retrocede e si vince, se si caricano troppo di responsabilità poi si rischia magari di avere troppa pressione ingiustamente e si rischia di fare delle brutte figure, quindi lasciamoli tranquilli, lasciamoli giocare che giocano bene e i risultati arrivano. Abbiamo un minuto e mezzo prima del primo break pubblicitario, direttore abbiamo parlato di Dalcanto, come è nata la scelta, poi ne parleremo anche nel secondo blocco, cosa l'ha convinta, perché avete deciso di andare dritti su di lui, lei e Testini? Noi abbiamo aspettato direi tantissimo perché il mister prendesse una decisione favorevole, stava giocando alla fase finale pre-off del campionato primavera, io ho avuto un primo incontro a Bologna con lui, ricordo che lui prese tempo, poi le cose si sono messe in maniera tale, per cui in un incontro successivo che abbiamo avuto poi a Milano con il Presidente della Cava, con Emiliano Testini e il sottoscritto siamo arrivati a definire l'arrivo di questa persona che comunque oltre a quelle che sono, mi avviso, le doti professionali, tecniche, a me come persona piace moltissimo, una persona con la quale si può dialogare, è un'azienda lista, è una persona che ha una cultura del lavoro importante e gode di uno staff anche perché vorrei anche citare i collaboratori che ha, perché ha tre collaboratori bravissimi e quindi diciamo uno staff veramente primo livello. E la sensazione è che anche per lui questo possa essere un anno importante, ma comunque il progetto Arezzo, anche da come lo sentiamo parlare, lo sente appunto proprio, si è calato in questa realtà, la voglia comunque di vincere in questa città. Si trova benissimo ad Arezzo, ne parlavo proprio ieri, ho avuto una lunga chiacchierata con lui prima della partita, ha un contratto triennale con l'Arezzo e quindi fa parte del progetto, è la pietra miliare di questo progetto che insieme si è costruito e quindi al di là di quello che saranno poi le sirene, perché ci saranno, perché già è normale che un allenatore così giovane con i trascorsi che ha, facendo giocare la squadra bene, la partita poi con il Ponte d'Era è stato veramente uno specchio importante per tutta la squadra, per l'allenatore, probabilmente, perché no, ci saranno anche delle attenzioni, ma penso che il fatto che lo abbiamo blindato con un contratto di tre anni e che lui si trovi bene, è l'inizio di un progetto che deve veramente portare l'Arezzo a livello importante, ma non solo dal punto di vista dei risultati sul campo, che è quelli ovvio che ricerchiamo domenica dopo domenica, ma anche in funzione di quella che deve essere la struttura societaria, la forza di una società che deve crescere, di quelle che saranno le strutture che in questo momento purtroppo, nonostante tutti gli impegni finanziari, non sono ancora all'altezza e quindi, diciamo, da questo punto di vista c'è molto lavoro ancora da fare. E allora, continuiamo a parlare con Armando Pironi e Marco Piga, adesso pubblicità e poi tra poco la seconda parte di Block Notice.